Anche quest'anno la Croce Rossa Sezione di Sciacca, in collaborazione con l'associazione Orazio Capurro Amore per la Vita, ha organizzato giochi sulla spiaggia e un torneo di bici volley 2x2, maschile, femminile e misto, che si svolgerà presso la spiaggia di Contrada Foggia nelle ore pomeridiane di domani e domenica 29 luglio. Scopo dell'iniziativa è una raccolta di fondi a favore della Croce Rossa italiana Comitato di Agrigento. Si potrà contribuire ovviamente a prescindere anche senza giocare. Il secondo anno di un'iniziativa straordinaria che si tiene nel nostro territorio è l'associazione della salute, sport, mare, sole, solidarietà. È un qualche cosa che messo assieme fa sì che il nostro territorio brilli di una luce ancora più intensa e più forte. Io mi corre l'obbligo di ringraziare tutte quelle società che hanno contribuito con i loro pensieri e i loro contributi a far sì che questa iniziativa si potesse realizzare. Dietro alle grandi marchi e ai marchi importanti che ci sono nel nostro territorio ci sono delle persone che hanno un grande animo e un grande cuore e che lo hanno messo in campo e che lo hanno dimostrato. Ci terremo a ringraziarli domani e dopodomani personalmente per far sì che questa iniziativa l'hanno resa così interessante e così ricca di regali e anche premi ai primi classificati e ci preme dire che grazie alle persone che verranno e che daranno un piccolo contributo compreremo del materiale sanitario che potremmo utilizzare per tutte quelle iniziative che si terranno nel nostro territorio. Quindi un grazie forte e dire che Croce Rossa è sempre presente e lo sarà sempre presente grazie all'affetto e all'umanità che ci viene ricambiata in ogni istante. L'associazione Orazio Capuramore per la vita, la Croce Rossa italiana, comitato di agrigente, unità territoriale di Sciacca, ormai siamo delle sorelle nel mondo dell'associazionismo. Siamo lieti di dare una mano a Croce Rossa attraverso questo secondo torneo di Bici Volley. È un'opportunità per noi di poter coniugare sia il divertimento perché daremo l'opportunità ai giovani di trascorrere due giornate tra il divertimento, lo sport, il mare, il sole e poi anche di aiutare con un gesto solidale. Infatti il torneo si chiama Aiutaci ad Aiutarti. Ricordiamo a tutti l'appuntamento per il weekend e gli orari? Ci vedremo domani. Nelle ore pomeridiane si svolgerà di sabato e domenica il torneo però per coloro che ancora non hanno effettuato la registrazione possono venire alle ore 14.45 e già di domani ci saranno dei volontari della Croce Rossa che prenderanno le ultime adesioni. il costo è di 10 euro per gli adulti. Invece i bambini pagano una quota di 5 euro. Queste sono state le quote previste.